ciao ragazzi sono a rientro 12 di settembre mi sono fatto male al polpaccio strappo 6 centimetri oggi sono di nuovo in pronto prima cosa che devo fare lo sapete la missione è quella fai vedere chi c'è dietro che inquadra gira gira ciao fatti vedere bene cavolo direttamente da salerno ragazzi gianluca pepe mio grande amico batterista la mission è sempre la stessa la vicino un filo perché ho paura di farmi male di nuovo vado vai e andiamo porca puttana che piedi che c'ho